Musica 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 La parola troppo spesso è lucicata da unicologico, tutta le famiglie, per esempio, la verità che fanno utopia, delle tese senza luce non ha via, di persone che possiamo capire che proprio ora è il momento di reagire, perché l'evoluzione è semplicemente una reazione dopo un'azione, è casa dai benali che come nella musica formerà, no? E tutto di più per dirti, come lo limite, alla potenza della mente umana, e alla capiteria disumana, vinto senza fucili, vinto senza fucili, facciamo la rivoluzione, Ogni giorno portando alla luce nuova emozione, vinto ogni canzone che non ben inventerà curiosità e originalità, mischiando strumentazioni, inventando linguaggi, purificatori per i nostri trenacci, Piaggiamo oltre male messicano, perché il problema non è umano, ma mettiamo ciò che ci fa soffrire, ciò che è tossicato, sta facendo scomparire nella musica e nella vita intera, Perché se noi tutti piangiamo miseria, è perché a questa società mancano i fondamenti, e gli alimenti per crescere senza rimpianti, Sono così, con tutto il patore, perché la cina della tele spugna, le calze, una giustizia data, e tutto per tutta, perché la humanità riprenda, la sua pazia che per ora le fattano il giorno di vita di tuttavia perché molti ci hanno creduto in quello che ha detto un leader da questo passo dal grande coraggio che spiegava al mondo intero quello che semplicemente è l'altra sperimentazione per il cano senza limitazione spiaggiamo oltre il padre che si piano perché il problema qui non è umano ma mettiamo ciò che ci fa soffrire ciò che il virus è piccato sta facendo scomparire nella musica e nella vita intera perché se noi tutti piangiamo in sedia e perché a questa società magari fondamenti e gli alimenti per piacere senza rimpianti solo così potremmo attuare la rivoluzione delle nostre enti che porterà le enti a capire che non serve essere unità di aumenti straordinari per cambiare che enti questo è un riconoscio bene quindi è un po' più difficile